Il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri e il Prefetto Angelo Tranfaglia hanno firmato a Bologna il nuovo patto per la sicurezza. Presto in città 27 agenti di polizia in più saranno installate più telecamere in arrivo pugno duro contro spaccio, abusivismo e bullismo. Dopo se le taglie dei valori anche la CGL esprime dubbi e perplessità sulla monorotaglia che dovrà collegare stazione e aeroporto. Per il sindacato preoccupato anche dell'aumento dei costi resta da verificare che sia il mezzo più idoneo per questo tipo di servizio. Calano gli annullamenti ma solo perché calano i matrimoni e la fotografia scattata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio di Bologna per il quale questo è frutto di una società che non fa più della famiglia una priorità. Calcio tra poco in campo Inter e Bologna per l'anticipo di campionato con legamenti in diretta da San Siro per il basket Virtus già fuori dalla Coppa Italia eliminata da Milano in Lega 2 domenica diretta esclusiva del match tra Ostuni e Conad. Si rinnova la tradizione del Carnevale dei Bambini giunto alla sessantesima edizione, l'appuntamento è per domenica lungo le strade del centro sgomberate dalla neve edizione organizzata a tempo di record anche a causa del maltempo. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG, dunque come avete sentito dai titoli Anna Maria Cancellieri oggi è tornata a Bologna in qualità di ministro dell'interno del governo Monti, l'ex commissario straordinario di Palazzo d'Accursi ha sottoscritto in prefettura un nuovo patto per la sicurezza con il prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia. A Bologna saranno assegnati 27 agenti in più che vigileranno le zone a rischio della città, sarà anche aumentato il numero delle telecamere per la videosorveglianza e sarà intensificata la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Allora ha seguito per noi il momento della firma Francesco Spada, vediamo. Si è riusciti a fare qualcosa che all'inizio non pensavamo, l'amministrazione ha fatto le sue verifiche con grande disponibilità e nel patto, su richiesta del prefetto, il ministero si impegna anche a un incremento nei prossimi mesi di ben 27 unità per quanto riguarda le forze effettive della Polizia di Stato. Siamo un po' lontani dalle molte decine di cinque anni fa, ma come vedete i tempi sono diversi, non sono più quelli e anche l'obiettivo che ci siamo dati, che come ho detto vogliamo agire per progetti, non abbiamo più da svolgere quegli specifici interventi di allora, ce lo consentono. In conclusione, a mio giudizio questo patto sicuramente consentirà di migliorare ulteriormente le relazioni, di motivare ulteriormente tutti gli operatori. Vedo un sacco di visi amici e quindi è molto bello, mi sembra di essere tornato a casa, e quindi mi sento proprio, niente, due parole velocissime perché questo patto per me ha un significato molto forte perché ha un significato di alleanza, proprio di patto nel vero senso del termine, di accordo, di intesa, di voler lavorare tutti insieme. Questo è il senso che vogliamo dare a quest'operazione, che è un'operazione per stringere ancora più i legami che ci sono tra l'amministrazione comunale e lo Stato, perché poi alla fine l'obiettivo che abbiamo comune è la tutela del cittadino e delle risposte giuste ai cittadini. E quindi questa unione, questa coesione sicuramente moltiplicherà gli sforzi o renderà ancora più efficiente quanto viene fatto cercando di ottimizzare al massimo tutti gli interventi perché i nostri cittadini hanno diritto ad avere delle risposte e devo dire che sono sicura che qui darà a frutti ancora più positivi o comunque darà frutti molto positivi perché i cittadini bolognesi sentiranno questa intesa e faranno parte anche loro del patto. E naturalmente era presente in prefettura oggi anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, allora sentiamo come ha commentato questo accordo. Rinnoviamo il patto per Bologna sicura, lo facciamo con chiarezza nella distinzione dei compiti tra le forze di polizia e la polizia municipale, ma lo facciamo con una volontà meglio specificata e precisata che l'importante è coordinarci e lavorare insieme per cercare di assicurare alla nostra città la maggiore sicurezza possibile. Non è un patto che fa delle promesse, assume degli obiettivi seri e lo fa nella cornice di un'idea di sicurezza che è sicuramente subordinata a un concetto più ampio di cui ha un estremo bisogno il nostro paese di questi tempi che è il concetto di legalità. La notizia di 27 nuovi agenti è una buona notizia, in questo senso anche per la città e di questo ringrazio anche il prefetto perché sicuramente rende più tangibile il comune impegno che stiamo assumendo. Ci muoveremo quindi per agire e progettare insieme polizia, polizia municipale, quartieri, associazioni e cittadini. Dopo se l'IDV anche la CGL sembra prendere le distanze dal People Mover, la monorotaia per il collegamento stazione-aeroporto il cui progetto esecutivo sta per essere licenziato dalla giunta Merola. Per il segretario della CGL di Bologna Danilo Gruppi più il tempo passa più aumentano dubbi e incertezze, quelle di Gruppi sono perplessità di fondo. Innanzitutto non è ancora certo secondo Gruppi che la soluzione di collegamento su monorotaia, stazione-aeroporto in prospettiva fiera, sia la più adeguata. E poi la più recente notizia della lievitazione dei costi che possono mettere in forse l'equilibrio finanziario dell'infrastruttura. In questa fase aggiunge gruppi, è necessaria la massima trasparenza e una puntuale informazione su ogni aspetto ancora poco chiaro. E tutto ciò va fatto, conclude, prima che sia avviata la fase operativa del progetto. Voltiamo pagine. È stato inaugurato questa mattina l'anno giudiziario 2012 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio per le cause matrimoniali. Presente anche Monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale, mentre a tenere la consueta relazione sull'attività del Tribunale è stato Monsignor Stefano Ottani, il quadro nel servizio di Simone Iannessa. Meno matrimoni, meno annullamenti. Un'equazione logica, forse un po' scontata, ma veritiera, che rispecchia bene la realtà di oggi fotografata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio di Bologna. A dirlo, sono prima di tutto i numeri. Nel 2011 sono stati 89 i libelli depositati contro i 104 del 2010. Per la prima volta, dopo 15 anni, si scende sotto quota 100. È una realtà che fotografa bene la situazione regionale, che non fa della famiglia una priorità, ha spiegato con rammarico nella sua tradizionale relazione il Presidente del Tribunale, Monsignor Stefano Ottani. 163 cause decise con sentenza affermativa, 8 con sentenza negativa. Cause pendenti alla fine del 2011 195, mentre molte di più erano la fine del 2010, ovvero 279. Vuol dire dunque che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio, con sede sotto le due torri, ha lavorato a ritmi più serrati, evadendo una buona parte delle pratiche arretrate. In tutto, in quest'ultimo anno, sono state espletate ben 186 cause, 155 nel 2010. La diocesi, da cui proviene il maggior numero di procedimenti, è quella di Bologna, con 34 pratiche depositate, 12 da Rimini, mentre il fanalino di code è Cesena. Il tempo medio impiegato per portare a termine le istruttorie è di 20 mesi, ma quasi il 40% delle cause si risolve in un anno e mezzo, il 14,6% entro 12 mesi, mentre ci sono casi piuttosto rari in cui le cose si prolungano fino ad arrivare a tre anni. I capi di nullità del matrimonio più diffusi sono l'esclusione della prole nel 32% dei casi e l'indissolubilità del matrimonio. Tra gli spunti di riflessione figura certamente quello della sessualità, che troppo spesso viene disgiunta dall'intento di procreazione e dall'affettività. Viene dunque vissuta come una questione totalmente privata, prescindendo dalle sue inevitabili ricadute sulle altre persone ed anche sulle generazioni future. È stata sottolineata pure la tendenza regressiva delle istituzioni politiche nei confronti del matrimonio ed il riferimento è andato dritto alla questione dell'aumento dei ticket sanitari rimodulati in Emilia Romagna a seconda delle fasce di reddito familiare lordo. In aumento le cause di annullamento di matrimonio, non tanto per una mancata consumazione, quanto per una deliberata scelta di uno dei due coniugi di non avere figli. Pesa forse su questa determinazione a prioristica anche l'attuale situazione economica, che rende sempre più difficile, soprattutto per le giovani coppie, una prospettiva di famiglia. Continua a suscitare polemiche lo spettacolo che va in scena oggi e domani a Casalecchio, intitolato sul concetto di volto del figlio di Dio. Ieri contro lo spettacolo si è scagliato l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, che ha detto l'uso del volto di Cristo è offensivo e blasfemo e ha chiesto messe e preghiere di riparazione. Se ne è parlato questa mattina nella nostra rassegna stampa, la consigliera regionale dell'Udc, Silvia Noè, ha attaccato il sindaco di Casalecchio Simone Gamberini, che ha detto, ho visto lo spettacolo, non mi pare offensivo, non mi si chieda di annullare lo spettacolo, perché non lo farei. Sentiamo allora invece le parole di Silvia Noè al microfono di Giuseppe Piloni. Questa è la posizione di Gamberini, il sindaco di Casalecchio. Vorrei solamente dire una cosa, Gamberini, di non confondere quella che è la libertà di espressione, quando la libertà di espressione è offensiva, è blasfema, è sacrilega. Quindi, ripeto, oggi lui ha fatto la scelta di autorizzare la continuazione di questa programmazione. Per me è un segno importante di come si rapporta un sindaco nei confronti, insomma, di determinate obiezioni, ma obiezioni fondate, oggettive. Quindi non c'è bisogno di essere un teologo, lui dice, per capire e per declinare in chiave di laicità quello che viene rappresentato. Qui è chiaro che viene offesa l'immagine di Cristo, vengono offesi i cattolici, non c'è rispetto verso la comunità cattolica, che ripeto è comunque la maggioranza dei cittadini, della religione. Non c'è rispetto verso la religione italiana, la religione dello Stato. Allora a questo punto io dico, prendo atto che questo sindaco è indifferente di fronte a queste offese e che si presta a questo tipo di critica, di pubblicità, che sicuramente separa la società rispetto a un momento in cui invece ha bisogno di ritrovare una grande coesione sociale perché ci sono delle priorità, delle emergenze, dove tutti insieme dobbiamo metterci la faccia per lavorare insieme e per risolvere un paese che oggi ha dei grandi problemi. La FIOM di Bologna porta la FIAT in tribunale, il primo ricorso per comportamento antisindacale dopo l'esclusione dei delegati dalle fabbriche. Nel mirino degli avvocati è finita la Magneti Marelli, una scelta che il segretario della CISL di Bologna, Alessandro Alberani, boccia con decisione. Sentiamo allora Alberani ospiti della nostra assegna Stato. Senta, quindi su questa denuncia per comportamento antisindacale da parte della FIOM, lei cosa dice? Io penso che fare sindacato non significhi rivolgersi ai giudici, questo è il mio pensiero, se la FIOM vuole fare sindacato facendo delle cause, se ne assume tutte le responsabilità sarà un problema della FIOM con l'azienda, non siamo stati certo noi a discriminare la FIOM, probabilmente la stessa politica della FIOM che la porta ad autoisolarsi, questo mi spiace ma è la realtà dei fatti, peraltro noi all'inizio di marzo, a fine febbraio faremo un'iniziativa presso la CISL che si chiamerà Per capirne di più, dove spiegheremo alla città e a tutti perché sta succedendo questo in FIAT, perché ho visto che moltissimi non conoscono realmente quello che è successo in FIAT nelle relazioni sindacali. È molto demagogico e facile dire, è tutta colpa di Marchionne, sono quelle semplificazioni che non aiutano nessuno, noi spiegheremo che cosa è successo a Mirafiori, a Pomigliano, cosa è successo nel contratto dei metallmeccanici, cosa è successo nell'auto e quali sono state le condizioni che hanno portato a questa situazione per niente positiva, l'ho detto in premessa, però ci vuole chiarezza e non si può fare solo demagogia perché qui ne va del futuro dei lavoratori metallmeccanici, ci sono molte beghe sindacali che interessano pochi lavoratori, ai lavoratori interessano i contratti e l'occupazione e la CISL sta facendo questo. In molte aziende della provincia di Bologna stanno arrivando bollettini per l'abbonamento speciale RAI, viene richiesto il pagamento di un abbonamento speciale anche per il possesso di apparecchi come computer, telefoni cellulari e simili normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi RAI, a seconda delle tipologie delle imprese gli importi variano da un minimo di 200 a un massimo di 6.000 euro l'anno, un altro assurdo balzello che si abbatte sulle imprese. A fronte di tutto ciò, ConfCommercio, Ascom, CNA, ConfArtigianato hanno chiesto un intervento del Governo e del Parlamento per esonerare le aziende al pagamento di quelli che sono solamente degli strumenti di lavoro. Le associazioni fanno infine sapere che saranno messe in campo tutte le iniziative di resistenza fiscale per evitare che le imprese siano caricate di ulteriori immotivati oneri. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata allo sport, tra poco scenderanno in campo Inter e Bologna a San Siro per l'anticipo di campionato, prima però andiamo a rivedere le immagini, stiamo parlando di basket, della sconfitta della Virtus di ieri sera in Coppa Italia, bianconeri eliminati da Milano. Vediamo. La speranza della Virtus di affrontare Siena in semifinale si infrange definitivamente sulla bomba decisiva e un po' fortunosa di Fozis che stronca la rimonta bianconera. Addio Coppa Italia e nuova sconfitta, la terza in stagione contro Milano. Nulla da fare per le vunere prive di poeta, leader e faro del gioco della formazione di Finelli, entrata in campo stranamente svagata e senza determinazione, tanto da subire nel primo quarto il monologo dell'Armani che scava il divario con i tiri dalla lunga distanza di un infallibile J.R. Bremer. Più 17 al primo intervallo, 31-14, più 11 per Milano al termine dei primi due quarti. Finlì assente e ingiustificata, Bologna passa a zona e cambia la partita grazie anche al risveglio di Douglas Roberts. È il fattore che dà la scossa alla squadra di Finelli e con 14 punti nel terzo parziale permette alla Virtus di ribaltare il trend e passare addirittura in vantaggio a 55-57. La partita sale di tono, Douglas Roberts diventa immarcabile, confezione a canestri spettacolari, ma non basta. Milano allunga 64-57, Bologna rintuzze e si resta sul filo fino all'ultimo, 79-77. È la tripla di Fuzzis appunto a mettere il punto esclamativo sul successo dell'Emporio Armani che chiude 82-77. Miglior marcatore in casa bianconera a Coponen con 23 punti, 18 per Douglas Roberts e 11 per Leng, finalmente positivo. Un disastro Gailius, Anonimi, Giglie e Sanichizze, ancora insufficiente Vitali che prova a non far rimpiangere Poeta in regia, ci mette impegno ma continua a litigare col canestro. Per la Virtus forse non si poteva fare di più. Anche stavolta si ferma al primo ostacolo della Coppa Italia, negli ultimi anni spesso terreno di soddisfazioni, ma anche di finali perse con molte recriminazioni. L'impressione è che la squadra sia stanca, meno brillante che gli avversari ormai abbiano preso le contromisure al celebratissimo ed efficace pick and roll che aveva regalato una striscia positiva di successo a inizio anno. Finelli deve ricaricare in fretta le pile alla sua squadra, rituffarsi sul campionato e sperare magari in un rinforzo di mercato. L'obiettivo, non facile ma raggiungibile, è rimanere nelle prime quattro. Sempre per il basket ricordiamo che trasmetteremo domenica diretta esclusiva a partire dalle ore 12 la partita di Lega 2 tra Ostuni e Conad Bologna. Quindi per gli appassionati, per i tifosi della Fortitudo, un appuntamento da non perdere. Noi adesso torniamo a parlare invece di calcio per collegarci con lo stadio Meazza di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Bologna. Con Sabrina Orlandi solo un flash per le ultimissime, se hai già le formazioni. A te Sabrina? Sì, buonasera Marco. No, purtroppo ancora nessuna formazione ufficiale, ovviamente manca ancora poco più di un'ora all'inizio del match e quindi andiamo ancora con le supposizioni o quantomeno con i dati raccolti fino all'allenamento di rifinitura di ieri che prevedeva appunto in avanti Divai unica punta, alle sue spalle Ramirez e Taider che avrebbe vinto il ballottaggio con Diamanti. Mentre rimane il dubbio sulla corsia di destra tra Garic e Pulzetti per il ruolo da titolare. Nell'Inter sicuramente mancheranno Milito e Stankovic alle prese con l'influenza mentre dovrebbe essere in capo regolarmente Giulio Cesare nonostante il problema al braccio stringerà i denti ma giocherà dal primo minuto. 20.45 fischio d'inizio, ovviamente noi già dalle 20-10 saremo in diretta per seguire passo passo tutto quello che accadrà anche nel pre-partito e Radio Cronaca ufficiale su Radio Nettuno per questo anticipo di campionato tra Inter e Bologna. A te Marco. Benissimo, grazie a Sabrina Orlandi. Prima di andare in pubblicità una notizia di cronaca. Questa notte a luna circa i militari della stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno sono intervenuti in via Porrettana presso l'area di servizio Shell dove poco prima a causa dell'eccessivo carico di neve ha ceduto la tettoia situata sopra i distributori di carburante. Vediamo appunto queste immagini. Durante il crollo la struttura si è piegata nella parte centrale, si è appoggiata sul tetto di un autocarro che al momento si trovava fermo per fare il pieno di gasolio. Nessuno è rimasto ferito. Il tratto della statale 9 a causa delle precarie condizioni di sicurezza del distributore è stato parzialmente chiuso al traffico sino alle 7 e mezza provocando rallentamenti alla circolazione stradale. Nella serata di ieri poi i carabinieri di medicina sono intervenuti in via Cavallotti perché un cornicione di tre metri si era staccato dal secondo piano di un'abitazione ed era precipitato per terra. Nell'impatto sono state danneggiate due auto con lievi danni alla carrozzeria. La caruta dei calcinacci sarebbe stata causata dal peso eccessivo della neve accumulatesi sul tetto del condominio nei giorni scorsi. Fortunatamente durante il crollo anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita. Dunque ancora problemi dovuti alla neve di questi giorni. Noi ci fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Noi venite insieme con ETG. Prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Il ministro dell'interno Anna Maria Cancelliere e il prefetto Angelo Tranfaglia hanno firmato a Bologna il nuovo patto per la sicurezza. Presto in città 27 agenti di polizia in più. Saranno installate più telecamere in arrivo pugno duro contro spaccio, abusivismo e bullismo. Dopo se le taglie dei valori anche la CGL esprime dubbi e perplessità sulla monorotaia che dovrà collegare stazione e aeroporto. Per il sindacato preoccupata anche all'aumento dei costi resta da verificare che sia il mezzo più idoneo per questo tipo di servizio. Calano gli annullamenti ma solo perché calano i matrimoni e la fotografia scattata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio di Bologna per il quale questo è frutto di una società che non fa più della famiglia una priorità. Calcio tra poco in campo Inter e Bologna per l'anticipo di campionato. Collegamenti in diretta da San Siro per il basket Virtus già fuori dalla Coppa Italia eliminata da Milano in Lega 2 domenica diretta esclusiva del match tra Ostuni e Conad. Si rinnova la tradizione del Carnevale dei Bambini giunto alla sessantesima edizione. L'appuntamento è per domenica prossima lungo le strade del centro sgomberate dalla neve edizione organizzata a tempo di record anche a causa del maltempo. Ne parliamo quindi proprio del Carnevale. Quest'anno a Bologna si rinnova la tradizione del Carnevale dei Bambini giunto alla sessantesima edizione. L'appuntamento è per domenica pomeriggio e martedì pomeriggio nel centro di Bologna. Un'edizione questa alla sessantesima ostacolata dalla neve organizzata davvero a tempo di record. Ne abbiamo parlato in studio con Paolo Castaldini responsabile dell'organizzazione. La neve si ha creato un po' di disagi perché si è stato in forza finché ha nevicato e ha nevicato parecchio. Poi visto che il servizio meteorologico si dava per fine settimana una giornata buona abbiamo pensato di fare questo Carnevale ma questo una settimana fa insomma pochi giorni fa. A quel punto siamo dovuti intervenire non soltanto con Coriandoli, Palloni e quant'altro ma anche con dei Bobcat e Badili per sgomberare la gradinata di San Petronio per la tribuna delle autorità e i passaggi che dovevamo fare per il percorso. E allora quanti carri e cosa prevede il programma? I carri sono 14 che sfilaranno per le vie del centro. La variante rispetto agli altri anni è che non riusciamo a fare l'intrattenimento che facevamo per i bimbi in via indipendenza perché tra la neve i ghiassoli che cadono non è prudente portare i bimbi. La sfilata invece sia domenica 19 che martedì 21 partirà da piazza 8 agosto alle ore 14.30 per arrivare in piazza Maggiore dove in piazza Maggiore e davanti alla sfilata saranno le maschere bolognesi. Balanzone con Facerini e Sganapino terrà il suo discorso alla città. solo calcio, trasmetteremo Vista da vicino, il magazine dedicato ai fatti, alle politiche e agli eventi della Regione Emilia-Romagna. Al centro della puntata di questa serie servizi sperimentali e integrativi per la prima infanzia. La trasmissione esplora due realtà che affiancano i tradizionali, un asilo a gestione misto pubblica privata e un centro bambini e genitori dove adulti e piccoli condividono l'esperienza educativa. È tutto per questa edizione del nostro giornale, vi lascio adesso alla nostra serata sportiva dedicata integralmente a Inter Bologna. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di ETV.